Ragazzi eccoci di nuovo insieme per la seconda parte dell'apertura dei 18 pacchetti di acqua polis Nella prima parte vi ricordo che ho trovato un nido king di tipo cristallino Fantastico, speriamo di essere fortunati anche nella seconda parte Allora, abbiamo Bellsprout, Veggente, Blissy, Paras Reverse, Ombur, Togepi, Eipon, Paras e un altro Bellsprout Questi si appranno un po' meglio che nella prima parte Seeking, Dodrio, Togetic, Kubo Psyche01 Reverse, Pinsir, Execute, Smirgol, Mr. Mime e Cubol Cubolampo 01 Tirog, Nido King, Sight Reverse, Ipno Olo, Spine Rack, Monkey, Larvitar e Vuper Proseguiamo Growlite, Guardia Forestale, Tentacroel, Volontari Cittadini dell'Erz Entei Polo, Bellissimo, Sintrit, Oddish, Hondur e Larvitar Niente da fare Frammento Temporale, Parco Pokémon, Ispion, Porygon Reverse, Hondur, Slowpoke, Paras, Drosi e Miltank Goldak, Frammento Temporale, Nido King, Guardia Forestale Reverse, Cinciu, Onyx, Sintrit, Likitang e Pinsir Cubo Combattimento 01, Centrale Energetica, Weileplum, Miltank Reverse, Execute, Tangela, Bellsprut, Magnemite e Monsion Gloom, Skyplum Energia Oscurità, Cubo Combattimento 01, Opip, Sighter, Hondur, Togepi e Paras Ultimo pacchetto di questa seconda parte Merrill, Cubo Combattimento 01, Sloking, Bacca Curativa Reverse e Ariados Olo, Opip, Psyduck, Drosi e Vulpix Benissimo ragazzi, sempre grazie mille per le visualizzazioni, continuate ad iscrivere e perché a breve ci saranno altre sorprese di PokeShiny Ciao a tutti